Siamo qui con Marco Buscemi degli Orange, tre partite, tre sconfitte. Come mai questa squadra non va a fare punti? Quello che manca è la forma fisica, secondo me. Perché i primi tempi teniamo, i secondi tempi caliamo di brutto. Ma quindi diciamo continuità? La continuità, i cambi sono quelli che sono. Siamo pochi, sette, a stand, e va bene. Avete altri due match point, sperate di fare punti in queste altre due partite, perché allora siete fuori dal torneo? Almeno una vittoria la dobbiamo fare per sforzo, se non due. Ok, speriamo allora in questa vittoria, bocca al lupo.